Vitalizio sì, vitalizio no per la classe politica, da ridurre o da cancellare e poi la politica dovrebbe essere una missione o un lavoro, il dillo a noi di oggi. Da abolire a vita. Perché? È un'ingiustizia. È un obbolo inutile che serve soltanto per pagare le virtù di qualche politico di lungo corso che sta in Parlamento da anni e anni, che magari con quel vitalizio si compra la macchina di lusso o fa altre spese inutili. Non esistono privilegi poi ad una classe politica che secondo me neanche se la merita. Quindi in una situazione economica che stiamo vivendo dare determinati privilegi o diritti acquisiti come qualcuno pretende che ci siano è un assurdo. Dovrebbe essere una missione, però è anche un lavoro perché è gente che è giusto che lavora e impegna il suo tempo. Poi è diventato un lavoro, tant'è che sono i politici di mestiere, quelli che non hanno mai studiato, non hanno mai fatto niente. Sicuramente sì perché sono troppo alti, specialmente adesso con questa crisi che c'è, è pure giusto che si riducono. Siamo tutti in balia di chi ci guarda, di chi ci controlla.